Siamo giunti allo stand RTZ Off-Road Equipment del titolare Giulio Rebesco, ciao Giulio, ciao, tutto bene? Tutto bene, benissimo. Ecco, come giudichi questa edizione 2013 del Jeepers Meeting? Guarda, mi sembra una bella edizione, noi ne abbiamo fatte tutte fino ad oggi, per cui vedo che oltre 400 macchine, la gente si diverte, i percorsi sono sempre nuovi, mi sembra che sia assolutamente positivo, oggi poi abbiamo anche una bella giornata di sole, per cui. Qui non possiamo chiedere di più, parlaci un po' della tua azienda. Noi ci occupiamo dell'importazione e della distribuzione di accessori e ricambi per Jeep, Dodge, eccetera, abbiamo quest'anno la novità di un nuovo bikini traforato per la Jeep, abbiamo la distribuzione dei ufficiali ponti d'ana dalla fabbrica direttamente e in più, come sempre, dal pneumatico al cerchio, ai parafanghi, i ricambi, gli accessori, i motori e tutto quello che serve per Jeep, Ford, Chevrolet, eccetera, insomma, ecco. Allora rubiamo ancora qualche minuto a Giulio, ci mostrerà il suo bikini sulla macchina montato direttamente. D'accordo, certo, come no. La peculiarità di questo bikini è che non si deve smontare per utilizzare il soft top o l'hard top ed essendo traforato consente all'aria di passare e di circolare, per cui resta abbastanza fresco anche durante la marcia e in più, utilizzandolo con soft top e hard top, hanno fatto delle prove in Florida e hanno scoperto che lascia circa 8 gradi meno di temperatura interna. Allora salutiamo intanto Giulio Rebesco, l'azienda RTZ Offroad Equipment, lo ringraziamo della disponibilità che sempre ci concedi e ti auguro una buona continuazione, in bocca al lupo per la tua azienda e buon divertimento. Grazie, buon divertimento a tutti.